Alcuni giornali, ieri, l'altro ieri, forse qualcuno anche oggi, e ne riferisco a giornali nazionali, Il Fatto Quotidiano, La Stampa, Tgcom24, forse anche, mi pare, Il Corriere della Sera, hanno riportato la notizia di un evento miracoloso che sarebbe accaduto l'8 dicembre del 2022, quindi circa una settimana fa, a Stupinigi, una frazione vicino Torino. Qui un gruppo di fedeli dell'Associazione Luce dell'Aurora era riunito per pregare per una famiglia in difficoltà. La statua presente in quel luogo poi avrebbe iniziato a piangere, quindi uno di loro ha notato per primo le lacrime che rigavano questa statua di gesso, e poi pare che anche altri abbiano notato questo fenomeno, lo hanno ripreso con il cellulare, ovviamente tutti li gridavano al miracolo, e il canale YouTube Spirito di Verità ha poi ovviamente lanciato la notizia con il video della lacrimazione. Certamente non è questo il primo caso in cui statue di santi, di madonne, insomma simboli religiosi di questo tipo piangono, anzi in passato abbiamo esempi di lacrime addirittura di sangue, in qualche caso poi si è scoperto che quelle lacrime erano state proprio o per scherzo o per chissà quale altra ragione, messe proprio da persone fisiche ed era sangue di animali. In ogni caso spesso si grida al miracolo quando una statua di gesso inizierebbe a piangere, e sono tante naturalmente le persone anche in questo caso che venute a conoscenza di questa notizia credono che si tratti effettivamente di un miracolo. Naturalmente ciascuno ha il sacrosanto diritto di credere in ciò che vuole e se la fede o la credenza che abbiamo ci aiuta a vivere meglio, ben venga, a nessuno è consentito di negarla, ci mancherebbe altro. Certamente però rispetto a questo episodio specifico, cioè alla lacrimazione delle statue, ebbè qualche perplessità ovviamente a me viene e non posso rinunciare a pensare, a mettere in dubbio la veridicità di questi fenomeni. In modo particolare mi vengono tre dubbi, tre perplessità, tre questioni rispetto al presunto miracolo della Madonna che piange. La prima questione è semplice, perché queste Madonne piangono soltanto? Perché non ce ne sia una che inizi a camminare o inizi a parlare muovendo le labbra, che emetta una voce? Se il miracolo è voluto da Dio, altrimenti certamente non sarebbe un miracolo, Dio quindi vuole dare un segnale ai fedeli, alle persone che credono in Lui, al mondo. Ecco, perché se proprio il miracolo lo deve fare, non farlo meglio? Perché non manifestarlo con segni più evidenti? In fondo mettere del liquido sotto gli occhi di una statua è il modo più semplice con cui simulare un miracolo che non esiste. Se invece una statua iniziasse a parlare, a camminare, a gesticolare, allora ovviamente lì e qualcuno addirittura la riprendesse con i cellulari, Dandola poi in visione a tutto il web, a tutto il mondo, beh allora a quel punto un qualsiasi fedele, ma anche chi non crede, una domanda se la fa veramente. E invece queste statue si limitano soltanto a piangere. Insomma, se un miracolo lo devi fare, insomma, fallo meglio, fallo come si deve. Numero due, questa è la seconda questione. Ma perché se proprio Dio vuole comunicare qualcosa attraverso queste statue di gesso, questa comunicazione è soltanto caratterizzata dalla tristezza del pianto. Eppure il cristianesimo è un messaggio fondamentalmente di gioia. Il messaggio ultimo del cristianesimo è la resurrezione, è la vittoria sulla morte, è la gioia di chi crede che la sofferenza non sia l'ultima parola nella vita dell'uomo, che la morte non sia l'ultimo capitolo, ma che ci sia ben altro di più bello, di eterno. Ora, è possibile che queste statue non abbiano un solo motivo per rallegrarsi, per gioire? Non ci saranno persone veramente di buona volontà, persone pie che si riuniscono e pregano, e lì non ci sarebbe da sorridere di gioia per una statua? Non esistono persone buone che fanno del bene all'umanità, che mettono magari in secondo piano interessi personali, ingordigia, avarizia, e si dedichino agli altri. Certo che ci sono. Quindi la Madonna, la statua, la statua della Madonna, la statua di Gesù, la statua di un santo, avrebbe anche qualche motivo per sorridere, per gioire. Certamente tutti sappiamo che il mondo è un posto difficile, che la sofferenza talvolta è indicibile, è estrema. Morti, guerre, distruzioni, malattie, tragedie naturali. Insomma, sappiamo che ci sono tante ragioni per cui piangere, ma ce ne sono anche altre, altrimenti questo mondo non può essere soltanto una valle di lacrime per gioire. E invece queste statue piangono soltanto. E' finito nella manifestazione soprannaturale di queste statue anche il messaggio di gioia del cristianesimo. Si piange soltanto, praticamente. La terza questione, la terza riflessione che mi viene è un po' più di natura teologica. E sarebbe interessante un confronto con chi studia queste cose, con magari un teologo, purché non usi delle improbabili arrampicate sugli specchi. Insomma, un confronto franco e leale, secondo criteri della ragione, della logica. Mi viene da dire, ecco appunto, c'è un passaggio del Vangelo famosissimo, in cui Gesù dice, beati coloro che credono senza aver visto. E' il passo del Vangelo in cui, insomma, Gesù è morto e appare ai suoi discepoli. Durante queste apparizioni però non c'è Tommaso. Quando poi i discepoli riferiscono a Tommaso che il Signore è apparso dopo la morte, dopo la crocifissione, dopo la sepoltura nel sepolcro, e Tommaso non ci crede. E' famoso il concetto di Tommaso, finché non vedo, non credo. E allora a un certo punto Gesù apparirà anche a Tommaso, apparirà nella stessa stanza quando Tommaso è presente, Gesù gli farà vedere tutti i segni della sua passione, quindi per dimostrare che si tratta effettivamente di lui, gli fa toccare il costato, le ferite dove è stato crocifisso, sulle mani, eccetera. A quel punto Tommaso dice, mio Signore, mio Dio, crede. E Gesù però dice, beati coloro che credono senza aver visto. Ora, per Gesù, che insieme allo Spirito Santo e al Padre è Dio, la beatitudine consiste nel credere senza vedere, cioè nel credere senza avere delle prove. E la beatitudine per il cristiano è quella propria di colui che gode della visione di Dio. Poi noi nel linguaggio quotidiano, diciamo così laico, intendiamo per beato una persona che gode di una felicità piena, tranquilla. Ma quindi c'è un Dio che dice, tu sei beato, cioè tu per essere beato devi accedere ad una fede che non passi attraverso la visione tangibile di manifestazioni luline. Nello stesso tempo però manderebbe dei miracoli sulla terra. Ora, qual è il senso di una statua che piange? Non è nemmeno una eventuale guarigione di un malato, almeno la guarigione di un malato dà giovamento al malato stesso, ma la statua che piange sarebbe una manifestazione soprannaturale che non ha di fatto nessun senso, nessun obiettivo, se non quello di far gridare la gente al miracolo e magari di ridestarla da una miscredenza, cioè vedo il miracolo, quindi Dio esiste. Ma nel passo del Vangelo abbiamo visto che Gesù dice che sono beati coloro che credono senza delle manifestazioni straordinarie, senza delle manifestazioni miracolose. Quindi com'è possibile che Dio metta sulla via dell'uomo delle manifestazioni miracolose per farlo credere, quando prima ha detto che è beato colui che crede senza quelle manifestazioni miracolose? A me almeno pare una contraddizione. La conclusione di questa riflessione, quello che mi verrebbe da dire è che forse chi ha bisogno di gridare al miracolo in questi casi non ha abbastanza fede, secondo l'ottica cristiana, per credere senza vedere. Ha bisogno di qualcos'altro perché la fede non gli basta. Ha bisogno di manifestazioni tangibili. E forse, se guardassimo meglio il mondo, ci scopriremo che di miracoli ce ne sono. Sono miracoli ordinari. Gente che ce la fa nonostante tutto. Gente che sorride nonostante le tragedie. Gente che consola quando invece avrebbe tantissimo bisogno di essere consolata. Insomma, se proprio vogliamo chiamare in causa i miracoli, e mi riferisco ai miracoli con la lettera minuscola, è meglio riferirsi a quegli episodi umani in cui le persone vanno avanti nonostante tutto, le persone ce la fanno nonostante tutto, le persone amano nonostante tutto, le persone si mettono in gioco nonostante tragedie, nonostante difficoltà, nonostante mancanza di lavoro, nonostante malattie terribili, nonostante povertà estreme. Forse cercare i miracoli in tutto ciò, vi ripeto, miracoli che non hanno a che fare con il soprannaturale, ma manifestazioni coraggiose di ogni giorno, ci aiuta a guardare il mondo e forse a capirlo anche meglio.